Ciao a tutti sono Mattia bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo della Matech F722 Wing che è l'FC che ho utilizzato sul mio Dart XL Extreme e vi mostro tutte le feature e i motivi validi per utilizzare questa versione con F7 rispetto alla famosa F405 che è stata la prima FC per wing fatta propriamente per iNav e che ha riscosso un successo enorme. Matech F722 Wing. Questa è l'ultima FC pensata per gli aerei e soprattutto in tutta la prodotta da Matech System. È un FC zero compromessi, il top in teoria per quanto riguarda iNav e in futuro ArduPilot. Vediamo un po' alcune caratteristiche e cerco di farvi capire perché ho scelto questa FC per la build del ZooHD Dart XL. Se state vedendo questo video vuol dire che ho già utilizzato questa FC su quella build, l'ho già testata e ci ho già volato in quanto volevo registrare prima il video, fare l'assemblaggio, testarla e poi pubblicare tutto. Vedete che rispetto alle classiche FC per droni questa ha un design un po' diverso. Abbiamo il pattern classico 30x30 che però viene poi sviluppato in questa direzione e su tre schede. In realtà l'unica scheda che ha effettivamente i circuiti e i pad dove saldare è questa centrale, mentre questa sopra è una protezione e questa sotto oltre a darci varie indicazioni sulle caratteristiche dell'FC è una piastra che ci serve per incollare questo stack diciamo alla nostra alia o alla superficie del nostro aereo perché se avete assemblato tutta alia o aerei saprete che non tutti hanno un posto pensato per avvitare un'FC, anzi praticamente nessuno almeno di quelli che ho usato io. Ora vado a togliere la scheda protettiva e vi mostro tutti i componenti dell'FC e dove saldare i vari accessori del vostro aereo. Prima però vediamo cos'altro è incluso nella confezione assieme alla FC e abbiamo delle viti di scorta sono 6 e dovrebbero essere per sostituire queste viti che sono 4 sopra e 4 sotto e non sono le M3 classiche, sono come vedete delle viti piuttosto piccole e funzionano con questo sistema che ha un piedino in metallo e dei supporti in plastica e gomma che in teoria dovrebbero aiutare quelle vibrazioni. Da questo punto di vista secondo me il design non è proprio azzeccatissimo perché i gommini non sono molto morbidi quindi come vedete la flessione è molto poca e l'assorbimento quindi delle vibrazioni non sarà altissimo. Cosa che non è in realtà molto rilevante per quanto riguarda le FC da aerei e soprattutto dovete pensare che se andiamo a fissare le FC con del biadesivo quindi con uno spessore magari di 1 o 2 mm quello sarà già sufficiente in realtà ad assorbire gran parte delle vibrazioni. Altra cosa inclusa nella confezione sono queste stecche di pin che potete andare a fissare anzi a saldare sulla board per poter collegare più facilmente i connettori servo. Apprezzo che non li abbiano saldati loro perché in molte build non utilizzo questi pin e quindi doverli dissaldare è un grosso fastidio invece averli inclusi in confezione ma poterli saldare sull'aereoccorrenza è secondo me la scelta migliore. Questa FC è l'evoluzione della F405 Wing che ha avuto un grande successo perché è stata una delle prime FC di questo tipo prodotte e messe in vendita con l'idea di avere un prodotto adatto ad INAV. Infatti ne hanno vendute veramente tantissime ed è una FC che funziona molto bene e che consigliano praticamente tutti. Questa versione con F7 ha dei grossi vantaggi secondo me soprattutto per INAV che ha alcune limitazioni software che rendono difficile secondo me l'utilizzo dei processori F4. Infatti come saprete con F4 abbiamo il problema delle inversioni del segnale sulle UART e su F7 questo problema non c'è e in questo caso la differenza è ancora più si fa sentire ancora di più perché iniziate ad utilizzare molte UART su un aereo visto che il GPS è sostanzialmente d'obbligo e poi potete avere altri accessori come barometri esterni e riceventi con telemetria, telemetria praticamente obbligatoria e quindi avere delle UART che possono essere utilizzate con tutto è veramente un grosso vantaggio. Vedete quindi qui il chip ARM STM32F722 quindi F7. Vedete qui il chip dell'OSD chiaramente integrato. In questa zona abbiamo l'alimentazione che arriva fino a 8S quindi sovradimensionata soprattutto se parliamo di aerei ed ha un buon filtro per l'alimentazione sia dei servi che della CAM e della VTX e inoltre c'è ovviamente un current sensor che ci darà indicazioni sull'efficienza della nostra build. Efficienza che è uno dei valori più importanti quando parliamo di tutt'ala soprattutto per chi vuole fare un po' di long range. Vediamo quindi da qui sopra abbiamo i due negativi e i due positivi per andare a montare fino a due motori. In realtà potrete utilizzare molti più motori se andate a sfruttare i pad in modo un po' diverso comunque vi danno dei pad predisposti per l'alimentazione dei DSC. E qui assieme ai pad di alimentazione dei DSC abbiamo questi pad con ground N, S7, ground N, S8. Segnale 7 e segnale 8 saranno i segnali PWM per i due motori, il ground sarà il ground ovviamente per i motori e nel pad N questo è per un po' ricordarci che in questa FC non serve aggiungere i 5 volt che arrivano dagli SC e in realtà credo che questo pad non sia collegato a niente ma se mi sbaglio correggetemi con un commento magari e in teoria non dovete andare a collegare i 5 volt perché la FC ha un regolatore integrato da 5 volt che serve ad utilizzare i servi. Sulle FC per aerei è molto importante avere 5 volt stabili perché come saprete i servi sono alimentati a 5 volt e un conto è avere solo una cam collegata ai 5 volt o una ricevente. Un conto è avere 2 o 4 servi che assorbono anche molto più di accessori semplici. Poi quindi qui sotto abbiamo i pad dove andare a collegare l'XT60 o comunque il connettore che utilizzate per collegarvi alla lipo e da qui poi passerà l'alimentazione per il current sensor. Qui abbiamo dei pad in cui possiamo andando a saldare scegliere se dare su VX o 6 volt o 7.2 volt ed è per alimentare i servi e vi dicevo prima dei 5 volt ma qui si va su 6 volt perché per molti ESI soprattutto quei digitali i 6 volt vi danno qualche vantaggio a livello di stabilità. Quindi questa scelta andrà a comportare l'alimentazione che troverete in questa riga di pad VX che sono quelli che vanno ai servi. Qui quindi già che siamo qua vediamo i vari segnali da 1 a 6 che sono per in teoria i servi e qui sotto i 6 ground relativi ai 6 segnali. Qui sotto troviamo poi la UART numero 6 TX6 RX6 con i loro 5 volt e il ground. La UART numero 4 con i 5 volt e ground e poi i pad SDA e SCL con 5 volt e ground. Parte molto interessante qui una delle feature che distinguono la F7 rispetto alla F4 è che abbiamo questi due pad chiamati C1 e C2 e sono per utilizzare due cam diverse. In questo modo potete in un modello ad esempio grande avere una cam fissa e una cam con pan tilt oppure una cam sul fronte del modello e una cam sul retro. Feature che sui droni magari non è molto rilevante ma che su un'area può avere un utilizzo interessante. E qui vedete che abbiamo questo pad VSW che ha alimentazione o 9 volt o 5 volt a seconda di come andrete a ponticellare questi tre pad. Se volete i 9 volt unite il pad sopra il pad centrale se volete i 5 unite quello sotto e quello in mezzo. Quindi avrete cam 2 alimentazione o 9 o 5 volt e il ground e sotto trovate cam 1 con un'alimentazione a 9 volt o il ground e sotto ancora abbiamo VTX 9 volt e ground. 9 volt sono da preferire rispetto ai classici 5 perché visto che tutte le camere VTX ormai accettano anche alimentazione da lipo un regolatore a 9 volt stabile vi garantisce un segnale video un po' più pulito. In ogni caso se avete una VTX che va alimentata necessariamente a 5 volt qui trovate un pad 5 volt che potete ovviamente utilizzare anche per una eventuale cam a 5 volt se entrambe le cam che utilizzate funzionano solo a 5 volt. La cosa è interessante perché se utilizzate una split prima versione che va alimentata a 5 volt e che è molto delicata sulla qualità di questa alimentazione avete qui l'alimentazione giusta. Infine su questo lato troviamo il pad AIRS che serve se andete ad utilizzare un AIRSplit sensor analogico quindi per misurare la velocità con più precisione e con la sua alimentazione 5 volt e ground. Qui avete la riga del buzzer quindi con buzzer meno buzzer più che sarebbero i 5 volt e il ground. Stessa cosa per i LED e poi SCL e SDA ripetuti che trovate anche qui e questi sono per andare ad utilizzare una bussola esterna oppure un misuratore di velocità però questa volta digitale e avete qui l'alimentazione a 3.3 volt e i ground e il pad RSSI per l'RSSI analogico di una ricevente che ha questo pad per RSSI analogico. I 3.3 volt vi servono anche per alimentare eventualmente dei riceventi spectrum quindi molto bene che ci siano perché espande le possibilità a livello di radiocomandi utilizzabili e infine qui abbiamo i pad ground e 4v5. 4v5 sarebbero 4 volte e mezzo e sono le alimentazioni che si attivano a 5 volt nominali utilizzando la USB. In questo modo se collegate una ricevente e il GPS in queste UART con l'alimentazione 4v5 queste UART si attiveranno anche quando utilizzate la USB. In questo modo potrete fare il bind della ricevente e anche controllare le impostazioni di iNav senza collegare la batteria direttamente all'alimentazione principale. E quindi qui con l'alimentazione 4.5 volt abbiamo la UART numero 3, la UART numero 1 e la UART numero 2. Quindi ricapitolando 3 UART libere qui e altre 2 UART libere in questa zona che fa un totale di 5 UART sufficienti praticamente ad utilizzare qualsiasi cosa considerando anche che per altri accessori avete dei pad dedicati. Tutti i pad hanno la loro nomenclatura quindi è facile orientarsi sulla board anche senza avere il manuale a propria disposizione e le indicazioni sono ripetute anche su questa piastra protettiva da montare sopra. Per la F405 è uscita anche una versione di hardu pilot che è un software sempre open source molto più interessante secondo me se si va ad utilizzare queste FC su aeree un po' più complessi e per i quali è importante avere una navigazione programmabile e si pensa che uscirà una versione di hardu pilot anche per questa F7. Quindi avete visto le feature principali di questa board e la rivedrete presto nella build del Dart XL di Zoysd e poi con una configurazione completa su iNav visto che è da molto tempo che vorrei iniziare a fare dei tutorial su iNav. Ovviamente trovate il link alla board in descrizione e vi invito ad iscrivervi al mio canale telegram e a seguire la mia pagina facebook per avere magari offerte su questo prodotto che in realtà avevo segnalato anche poco tempo fa quando fu in offerta e quando io effettivamente l'acquistai. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto se lo è stato iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie per l'attenzione ciao Grazie a tutti